L'uoce del ma... Aspetta, intanto. Qui abbiamo in... Qui abbandono il mio braccio destro. Non è più Michela, exodia. Abbandono il braccio... Michela è il proibito. Messaggio avvergato da Sir Almbach, indirizzato a chi segue le tracce di Michela. Sembra che gli abitanti della Rocca abbiano allargato la camera sacra che conduce all'albero ombra per impedire l'accesso. Tuttavia, non sembra esserci un percorso verso quell'area da questo magazzino. Forse si sta notando per annunciare la camera sacra da qualche parte della Rocca. Su un braccio destro o puoi salire? Infatti voglio salire. Vedrà che c'è la cosa per evocare gli alleati. Qua ci sarà un boss. Infatti volevo vedere cosa c'era. Ai ai ai, là c'è il boss sicuro. Mi scusi eh, le risalgo sulla capoccia. Ho fatto un salto un po' male. Sali prima, poi boss della morte. Ah, questo non è un bel freddo. Mi state mettendo curiosità a questo punto, ragazzi. Allora, facciamo così. Tra l'altro la simbologia è messa come marica, però ha il corno. Ritorno un attimo sotto dal NPC. Perché? Ci sono già stato, perché? Eh no, ma lì c'è un bel po' di roba, però. Allora, siamo qui. E non ce ne fotto un cazzo, però. Non posso salire più di così. Eh, non mi... Che cazzo me ne faccio? Ha un oggetto in bocca alla statua. Non l'ho visto. Eh, ma è inutile. Devi trovare la leva. Eh, vabbè, ma è inutile stare qua. C'è una scala! Ecco perché... Sì, ma non ci arrivo alla scala, però. Rinferimento a Cristo. A favore, ascoltate. Se tu credi in Gesù, è un tuo problema. Qui noi crediamo tutti nella regina marica, per favore. Poi mi rispondo. È sotto la scala. Eh, ma ci devo arrivare alla scala, però. C'è anche il piano di... Ci sono... Ragazzi, ci sono 37 piani. Che cazzo? Questo posto è immenso. Eh, ma tanto è inutile, perché... Anche se salto... Guarda che se salto da qua, mi ammazzo. Uno. Due. Che cazzo è inutile, perché... Aspetta che sti cosi fanno schifo da soli, ma in gruppo non lo moleste. Devi fare il giro salendo. E poi sul piano salti sull'altro tizio. Porca troia ogni volta. Allora, no, no, no. Aspettate. Andiamo, andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Se ne ho avuto. E se ne avevo sul pocciamano vicino le corna si vedeva l'oggetto in bocca. Eh, ma tanto... Forse si passa da fuori per salire. Lo vedo l'oggetto è lì. Però non lo posso prendere. Un po' di lezito. Ah, fammi vedere un attimo. Dubito che si vada da sopra. Ci guardo. Ma tanto l'aria per il boss. Se c'è il boss esco. Non credo si passi da sopra, però. Ah, devo trovare una leva. Bellissimo. E vieni qua. Allora. Andiamo a trovare una leva. Dio. Siete ad un fastidioso. Mi dai il mantello? 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 Aspetti, ragioniere. Che l'ho beccata la metà delle volte. Allora. Andiamo con l'ordine. C'è una roba che sale. Quindi io penso di salire. Dovresti richiamare lo strumentopolo misterioso. È inzato ora? Eh no, per niente. No, però se non lo menassi da un'altura sarebbe un pochino più pratico per me almeno. Non menarlo da un'altura. Almeno se scendesse mi farebbe più comodo. Che palle sta mossa. Porco il dio merda animale di un cane di Dio Troia. E tu si capisci un cazzo. Ma va a fanno il culo. È dell'armatura? È dell'armatura mai. Voi siete dei nemici di Dio Troia che sono fastidiosi che c'è tutto questo topo. Allora, qua c'è un posto che si scende. Comunque sto posto è gigantesco, guarda. Infatti sono andato dall'altra parte. Scusate. Ho bisogno di riprendere vita. Una, ok. Io sento camminare, ma non sento... Pergamena del rito. Pergamena della corteccia bianca. Pochi sono in grado di decifare la pergamena. Che illustra il rito segreto del barco divino che pare si nasconda nelle torre ammantate ad ombra. Un lord accoglierà il ritorno di una divinità. La sua anima avrà bisogno di un ospite. Io non ospito nessuno, eh. Ve lo dico, non mi rompo il cazzo. Questa cosa credo fosse importante. Però dubito fortemente che ci serve per andare avanti. Io per capito ci sono altre cose. Ritorno all'NPC per darglielo. Ah, ok. Ok. Devo ricordarmi dov'è l'NPC però. Sti cosi sono bassi, ma non riesco neanche a menare. Oh, è importante se... Eh no, ma adesso devo capire dov'è l'NPC però. Non mi ricordo più. Mi insegui, mi devi rompere il cazzo fino a qua. Allora, andiamo a vedere un attimo dove sta l'NPC. E non mi ricordo assolutamente dov'è, ragazzi. Ma come fai a sentire? Non voglio spavare stavolta. Resi. Mi dai l'armatura? Mi dai l'armatura? Non mi dai l'armatura. Qua in basso. Devo scendere le scale? Scusami, Jonathan, dicevi? Se ci fai ancora sveglio. C'è il DLC di Almerino. Ma non è scattato. Non vuoi scappare. Mi hai bloccato, troia. Ah, è qua da qualche parte. È qui giù, il vecchio pazzo? Allora. C'è quello che potrebbero essere capito di avere la implicazione? Beh, cosa è questo? Sì. Sì, dovrei sapere. Anche la verità era una polla folly. Come se usare Lord Mooghe per ottenere l'entrazione in la terra di Shadow non è sufficiente. Ma non è necessario usare l'entrazione in la terra di E infatti, come descrivono Michela, sembra buono, ma non così tanto. Cioè, nel senso, sembra buono, però... Vabbè che lui serviva Mooghe, quindi... Vabbè che... Allora, Michela comunque aveva un incantesimo per ammagliare gli altri, perché io l'ho visto prima che giocavo offline. Ce l'ho visto prima fuori live. Però, nel senso... Cioè, sembra essere gentile, però... Insomma... Eh, non c'è più. Io pensavo mi lasciasse qualcosa. Ma dai, che merda. Ma io pensavo mi lasciasse qualcosa. Che tristezza. Vuole reincarnare il suo re consorte. Oh mio Dio, e chi cazzo è il consorte? Non lo voglio sapere, eh. Mi raccomando, grazie mille. Non ditemelo. Non è che lo scopriamo a breve, eh. Lo scoprirai, infatti. Però io vorrei andare di sopra. È tutto molto bello, ma io voglio andare di sopra, però. È tutto fantastico, però io voglio andare ai piani di sopra. Certo che vanno per spoiler, scusami. Che divertimento c'è a spoiler, c'è. Che gusto c'è a spoilerare. Però sono troppo veloci, ste cazzo. Mi dà l'armatura, per favore? Mi dà l'armatura? Mi dà l'armatura? Non me la dà. Temo non me la dà più. E' Tyrkion. Fai attenzione, è trio. Eh, ma che me ne fotti. Io vado in avanti. Ah, il trio intendi. Adesso sono un di due. Adesso sono un trio. La braggia, la braggia di Mesmer. La braggia. Amore alla braggia. Amore, la braggia di Mesmer. Ok, si saliva da qua. Mi dà l'armatura? Mi dà l'armatura? Per favore. Mi dà l'armatura? 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 No. Stai zitto Porca putta Sto cercando d'ascoltare Stai zitto Ah ma è Freya Ma dove sei? Freya? Ma dov'è? Freya sei tu? Ma no Freya sei tu? No Mi devi dare l'armatura Mi devi dare l'armatura Mi devi dare l'armatura Ascolta hai rotto il cazzo Qua non usciamo più Aspetta E basta Madonna santa Aspetti Dico ho finito anche la stamina E' l'armatura? No Undicesimo Grazie per il sal Patatino Calcolo di spirito Calcolo renale Freya sei di sopra Io sentivo parlare Pensavo fosse tipo travestita Dico l'attacco è finita Faccio una cappella incredibile Allora Freya è di sopra E io devo raggiungerla Perchè Per ovvie ragioni Quindi saliamo Saliamo Ma prima fammi guardare Ah Va bene Mi dare l'armatura Mi dare l'armatura Non mi dare l'armatura Per prima cosa Leva E mo vado Ma se ci vado Saliamo o pepiamo Saliamo e pepiamo insieme C'è la braggia Di mesmer Ok Ok Bene Allora Io prima voglio andare da sopra Voglio andare sopra Volevo dire Perchè Se c'è Freya Io voglio andarci a parlare Allora Freya Freya tesoro Ah sei qua Benissimo Eh non mi dice un cazzo Posso evocare qualcuno Devo Devo farci a botte Perchè me da un bacino Devocazione Non mi caga Non so esattamente Che cosa voglio Non mi Oh Mi dai l'armatura Vuole sessare Eh a me va bene Dai Carlo Dai Carlo Dammi l'armatura Continua a salire Non ti preoccupare Intanto fammi farmare Questi stronti Che Questi stronti Un'armatura Da Da Quell'uomo La sua armatura No Mesmer È sicuro Il figlio di Marika Cioè ormai lo sappiamo Continua a salire Non posso salire Più di qua Sono arrivato Al capoline Adesso scendo per forza Perché Devo Devo prendere La scorciatroia Cioè il passaggio Che ho appena preso Ma chi è il padre Ah Bella domanda Quello È una bella domanda Effettivamente Non ho idea Mi viene da dire Radagon Mi viene da dire Radagon Per i capelli Però I capelli rossi Gli ha Radagon Aspetta Guarda C'è qualcosa Mi viene da dire Radagon Solamente Per i capelli rossi Ma Però Non è detto Non credo Si salga qua Ma penso Si salga da qui Ciao Tu Mi dai l'armatura Arrivo E arrivo dopo Da lei Vai 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 C'è la statua Di Marika Attenzione Attenzione Quando c'è la statua Di Marika Non è mai Un buon segno Attenzione Boss in arrivo Eeeh Cosa corsa Così per dire Prova percorso Nascosto Sì provalo tu Il percorso Nascosto Che mi dice Prova giù Sì beh Ah no Ma è un'altra Strada di prima Nooo Noo Che ho Quella cazzo È fastidiosissima Io spero veramente Di prenderla Io perché È una noia Mortale Allora Albero madre No Albero padre Più avanti Grazia Cosa abbiamo Qui Ah ecco Siamo arrivati In ultimo piano Mi sa Ma Oh madonna Sei rincoglionita Freya Che c'è Jumbo Che altro non vedo altre strade Non capisco lo scopo di questo Non capisco lo scopo di questa cosa qua A che pro cosa serve Ciao Mi dai armatura? Ciao Sì La voglio La voglio Aspetta 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 Voglio quella ceneri di guerra Voglio anche l'armatura Tra l'altro La ceneri di guerra È molto interessante Sto pensando A quale fare Cazzo Cazzo Se va veloce Cazzo Se va veloce Eh non è male Sto pensando A quale fare Perché anche il proiettile Non è male Il proiettile È interessante Grazie 17 Buonattino Grazie mille No Dai Dai Sei una merda Non fammi cascare Per forza Dai Ti prego Dai Ti prego Non fare il merda È finita ragazzi Ha fatto il merda Scusa È la statua di Marika C'era la statua di Marika Ma perché Ma c'era la statua di Marika Scusami Che vuol dire sta cosa Ma Ma c'era la statua di Marika Che significa Perché mi ha fatto ripartire da qua L'ho vista I don't understand I am confused now Ah se esco dal gioco Me la toglie Ma come Ma è una merda Scusami You are a shit You are a maledet shit Bastardo di merda Ah quella signora di guerra Mi sa che la metto alla spada Perché è molto interessante È molto interessante No Bravo 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 illa illa Bravo Allora Eh io le rune Non sono sicuro neanche di recuperarle Eh Madonna Ti giuro ti ammazzo Freya Appena ero l'occasione È fighissima la guardia Staggerato By my lord Dammi la cenere di guerra E dammi l'armatura L'elmo La cenere di guerra Ho sbagliato Non volevo No ma non voglio Non voglio saltare Non voglio saltare Le Le Non voglio saltare le cose Degli NPC Asin Non voglio che mi partano Delle quest a caso Senza ragione Cioè non voglio saltare Le quest e quant'altro Vedi solo cos'è No ma a me va bene Perché se non c'è nient'altro Da fare È solo che non voglio Saltare le quest Ora Ora Sì però Un attimo Per pura Per pura Per pura curiosità Eh Per pura curiosità Le rune Non so nemmeno Se riesco a prendere Quanto leva E quanto va veloce E quanta è la distanza Fammi vedere un attimo Piccolo testa volante Adesso lo provo Su Frey Allora Scusa un attimo Analizziamo Allora prima La distanza Aspetta Scusa Tu sei La distanza Mettiamoci a distanza Mazza Se va lontano Mazza se va lontano Ed è pure veloce Notevole Eh non male Non male sta cenare Per ora Per ora la teniamo Perché Considerevole Ragazzi è il momento Prima bisogna Di sapere Se qualcuno Lo sa Scherzi a parte Qualcuno Quanto dura La fiamma Scusa Dura un bel po' Dura anche Molto di più La fiamma Però Ci sono Ci sono Delle quest Che se faccio Sto boss Salto Perché Avrebbe bisogno Di sapere Non voglio saltare Delle quest Fatemi vedere Chi è Ma come cammino Sembra che mi sono Cagato addosso Mongrel intruder Prego Ma è mesmer Ma è mesmer Ma è mesmer Ma perché sto Affrontando mesmer Ma come Non è il boss Finale Scusami Ma che cazzo Dici Niente Mio purpose Stendeth Unchanged Those Stripped Of the grace Of gold Shall all Meet death In the embrace Of mesmer Si sono rimasto male Si sono rimasto male Ma no ragazzi Ma no ragazzi Però scusate La leoncina di merda E la leoncina di merda Io Sono troppo nel panico Non voglio saltare Adesso lo affrontiamo Ma non voglio saltare Delle quest ragazzi Vi giuro C'ho il panico Di saltare Delle quest Sì ma qui manca ancora Tutto un pezzo Di mappe enorme Qua c'è qualcosa Che non Qua c'è qual quadra Che non cosa Non voglio guardare Su internet Perché mi spoiler Che altro Non ho nessuna A cui chiedere Non ho nessuna A cui chiedere Spero di non Far delle cappelle Non è il boss finale Eh ma non è Non è quello Il discorso Vediamo un po' Come te la cavi Ora Non ti vedo Non so dove sei Allora Uno Ti devi stare calmissimo Allora Devi starti calmissimo Allora Allora Sei troppo agitato Devi stare Devi stare calmissimo Sei troppo agitato Primo Quest'arma Fa poca danno fuoco Ma fa un botto Di danno fisico Quindi in realtà Non è un enorme problema Ma però 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 Vabbè ci proviamo lo stesso È troppo agitato il ragazzo Non ti farò un cazzo Che tira Ma che bozza che tira Ma che bozza che tira Qua c'è da imparare Un po' di attacchi La sua arma è sgravata Questo non è il boss finale Eh no, manca tutto il gioco Allora, il problema è che Adesso, se volessi giocare per divertimento Usarei anche la spada, ma qua Qua mi serve roba che faccia Allora Sì, la voce fa bagnare, sì, è molto È molto sexy Allora Mettiamo che potenzi di attaghi consecutivi Potenzi di attaghi caricati Rende più probabile lo sbilanciamento Proviamo a buttarlo giù Ma in realtà per me non era ovvio Se non fosse lui il boss finale Cioè, nel senso L'avevamo presentato 37 volte come il boss finale Ho sbagliato amuleto Ho sbagliato il tempismo Presa Mesmer Non farlo mai più Cioè, mi è Ho l'acufene Non ci sento più, ragazzi Cioè, mi ha perforato un timpano Mesmer è l'unico boss Che ti ferisce anche nella vita reale Cioè Mi ha trapanato un orecchio Cioè, non farlo mai più Questo è il primo boss Dei giochi Dei Souls game Che ti fa male anche nella Ti colpisce talmente forte Che ti fa male nella vita reale Cioè Mi ha amputato un orecchio E non sbagliare il tempismo Aspetta che bevo, eh Qua c'è da rotolare un po' a caso Qua c'è da rotolare un po' a caso Un po' a caso Qua c'abbiamo a che fare con Malenia 2.0 Allora No, il problema è che questo Questo pezzo di merda Ha un attacca di continua Malenia 2.0 È un po' sì È un po' sì Vieni Eh Trela La pepina fa il caffè Chimic entro oggi, eh Tutto la stamina Non ho capito neanche cosa è successo Andrea, penso che ti salti qualche quest Sconfiggendolo da solo No, non posso saltarle queste, ragazzi Quali queste, Andrew? Se sai quali, dimmelo Non posso saltarle queste Sono troppo importanti Cioè, se tu sai quali sono Dimmelo Cioè, non è un problema Dimmi direttamente quali sono Perché Non posso saltare delle queste Voglio le armi Voglio le armature Non posso saltare della roba Allora Allora, intanto aspetta Sai cosa facciamo intanto? Intanto voglio andare a parlare con lui Voglio andare a parlare un attimo con lui Di uno che in inglese si chiama Ornstein Ma in italiano non so come si chiami Eh, ma dov'è chi è? Dico Sai, ho incontrato Mesmer Mi sta facendo malissimo E il torrione è nero E il posto dove sta Mesmer E lo scemo che vende E lo scemo che vende i prodotti? Non c'è più? Controllo come si chiama Controllo come si chiama in italiano Quel tizio lì Non voglio saltare delle queste Cioè E lo scemo che vende i prodotti? Non va andato NPC in giro? Io non ne vedo C'è quel cazzo di rincoglionita di Freya Che però parla E non si capisce un cazzo Di quello che vuole Orncent Eh, dimmi come Forse l'hai saltato No, l'hai saltato Iniziando la battaglia è impossibile Non si può saltare una questa Iniziando una battaglia Non è possibile Non è possibile Eh, non è Non sarebbe Una brutta Da usare la River of Blood Effettivamente In questa battaglia Fa vedere un attimo Un secondo Orn Orn Ascente Chi è? Almeno per capire chi è Almeno per capire chi cazzo è E chi cazzo è? No ragazzi Ma porco Dio Ce la fai Dio cane? Allora No ragazzi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ma dove lo trovo, scusami? Oddio, è vero, però non so dove cazzo trovarlo. Quando approcci lo Shadowkeep, da qualche parte la rune ok, quando approcci Hornstent, ma dov'è? Ma dove? Dove lo trovo? C'è qualcuno che sa dove trovo sto cazzo di Hornstent? Posizione Croce dei Tre Sentieri, Regno dell'Ombra. Ma il problema è che la Croce dei Tre Sentieri... Ecco, Croce dei Tre Sentieri. Rovine, villaggio... E dov'è la Croce dei Tre Sentieri? Poco dopo Rellana... Eh, ma pure io, però, devo ritrovarlo in una zona iniziale. No, però ragazzi l'ho già trovato lì. Cioè, qui c'è Croce della Strada Maestra... Eh, tornati indietro? Qua c'è Tio Lie. Allora non dice un cazzo. Ma com'è? Dove sei? Ah no, ma quello è il tizio del veleno. Croce della Strada Maestra. Eh, non c'è. Non c'è. Non c'è, perché... Ha detto di chi mi devo fidare e mi ha detto la tizia che l'ha cacciato via. Lei mi ha detto... L'ho cacciato via, non mi fido. Però io non so che cazzo... Era lì, però adesso io non so dove merda è andato. Quindi evidentemente ho fatto una quest'alternativa. Dopo questa... Dopo qui dove dovrebbe essere? C'è qualcuno che al volo mi sa dire un secondo... Ora io lo ho davanti alla boss fight dell'ippopotamo. Ma com'è possibile? Vladislav? C'è qualcuno? Allora, guardo un secondo da YouTube, aspetta. Mi dà una mano che la boss fight? Allora forse ho sbagliato io. Ci guardo un attimo al volo. Se c'era questa al volo, giusto per capire dove dovevi trovarlo. Non esiste. Non la farò ancora vedere. Puoi decidere di invadere e aiutarla la rocca delle ombre. Ma dove è? Questa è la rocca delle ombre. Ma dove? Sì, ma dove? Cioè, la rocca delle ombre non... Non ci sono, ma non c'è. Accanto Freya nella Croce dei Tre Sentieri nel Regno dell'Ombra. Ma che cazzo è la Croce dei Tre Sentieri? E' la zona con le barche. Il problema è che la zona con le barche non c'era niente. Ma non c'era niente. Ci guardo al volo, ma non c'era niente lì. Ci guardo al volo, ma non c'era niente. Per... Magari l'hai missato. Per mesmerd penso che forse potremmo usare la river su un colore. Fare il parry non esiste. Non ce la faremmo. Ma io non mi... No, io l'epopotamo avevo l'altra tizia. Non avevo lui. Vedete l'armatura? E' vero che non ho più? Vedete l'armatura? Vedete l'armatura? Vedete l'armatura? Fammi vedere al volo. Vedete l'armatura? È stata una spada, ragazzi. È la terza spada che trovo, eh. Non per dire... È la terza spada. Io una le volevo. Non 37, comunque. Aspetta che sti cosi mi fanno malissimo. È vero che... 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 Percentuale dell'uno. Ma in realtà sì, c'è. Però... Ovviamente ho un culo sfasciato. La zona delle barche è questa. Non c'è il segno. Deve aver missato qualcosa nella questline. Che cazzo c'è qui giù? Non sono mica... Che cazzo c'è qui giù? Non sono mai sceso. Siste il gratis per il sapo, latino. Vabbè, volevo fare la tamara. C'è la shortcut. Tremiappa. Devo aver sbagliato qualcosa. Appena poi, per un attimo la mappa. Fatto. Dimmi. Ascoltami. Sono qua. Sono qui. Dimmi. Ti sto ascoltando? Dimmi. Aspetta. La mappa è qua. Ma ne manca ancora tutto sto pezzo, tra l'altro. Ma è enorme la mappa. Non è piccola. Un bosco con i capelli verdi. Non so cosa vuol dire, Andrea. Ah, io aspetto. Mari, dimmi però. Giusto per non stare due ore e mezza. Cioè, nel senso, hai trovato qualcosa o... Quando è il trenero dell'ombra? Prima ho scritto la grazia che è in attrazione a pieno ottobre. Qui a nord aggiunge l'incrocio grande albero. Secco nella vicinanza. Questa è la grazia che mi ha accorci. Michele... E fin qui ci siamo. Questa la finisci quando ammazzi Mesmer. Ah, vabbè. Se lo sai, va bene. Se ne sei sicuro, andiamo ad ammazz... Andiamo ad ammazz... Ci proviamo. Se ne sei sicuro, proviamoci. Anche se... Mi dico la verità, non credo che staremo qua a breve. L'importante è che ne sei sicuro. Non far... Cioè, nel senso, non farmi saltare delle quest. A meno che... Se ne sei sicuro, vai. Lo trovi quando l'ammazzi. Va bene. Se ne sei sicuro, mi finisco. Vediamo. Eh, vabbè, ma adesso... Ah, ma tanto gli attacchi si imparano un po', eh. Sì, ho scappellato malissimo. Vediamo un po' come funziona. Buono, buono. Sì, però, questo foso, fai dei danni ad aria, non lo so. Questo affare fa dei danni ad aria, non lo so. Attacchi il Mimmy? No, grazie. Addio, Mimmy, che è stato bello. Desmer, ho perso... Ho perso i timpani. Io non sento più, però. Mesmer mi rendi... Mesmer ti rende audioleso. Oh, cazzo, è in due fasi. È finita, ragazzi, è in due fasi. Addio. Sì, è un problema, perché nelle fasi due diventano più molesto della fase uno, e quindi è un problema. Sembra che parli come Forrest Gump, certe volte. Perché l'hai fatto? Perché hai diventato un pirata? Ma aveva l'occhio finto, o aveva l'occhio finto, o aveva una cataratta pesante, aveva l'occhio di vetro. Sembra vagamente, sembra veramente tanto il gemello, il gemello di Malay. Eeeh, sì, e vabbè, sì, e vabbè, io non so cosa sto facendo. Non è tanto sempre il gemello di Malay. Non è che lo è, perché... Non è che lo è, non è che lo è, non è che lo è, io non capisco nemmeno cosa sto facendo. Che casino, adesso evoca anche dei tremors. Allora, il problema è che... Non posso mettere roba... Facciamo fare questo, ma... Fa poco. Lui ha un sacco di danno da fuoco. E quindi ci metteremo la super resistenza al fuoco, se no qua non lo sciamo. Ma Andre, sì, no hit, speedrun, no damage. No, il filmato è schippabile, stupidino. Il filmato è schippabile, stupidino. Miramelo però. E ho sempre dei problemi col tempismo. Mimic, entro oggi. Grazie. Mimic, sei nel punto sbagliato, perché così non riesco a fargli... Per me, perché male... Cristo Dio, che casino. Mi sta attaccando il Mimic, puoi attaccare anche lui se vuoi. Mi sta attaccando il Mimic, puoi attaccare anche lui se vuoi. Sì, eh, non per dire, eh. Non per dire, no, tranquillo, eh. Calma, eh. Allora, con te o con me? Non capisco. Io ho finito la vita, però. Mimic, è il tuo momento di brillare. Mimic, non mi hai curato, testa di c... Comunque sono un sacco curioso. Guarda il Mimic che ricammina così. Allora, ma che carino il Mimic ha fatto. Sì, è il boss. Andiamo. È il boss. Coglione di merda. Sono curioso un sacco. In che senso... In che senso sei destinato all'oblio? Mi leggerò la storia, non si capisce mai. È un cazzo, non lo so. La seconda fase sembra lo Cimaro. E vagamente sì. Ok, è qui. L'abbiamo imparato, più o meno imparato. Mimic, fai qualcosa. Mimic, distrailo. Mimic, è il tuo momento. Bravo. Mimic, distrailo meglio. Mimic, distrailo meglio. Facciamo che corriamo, eh. Facciamo che corriamo per quegli attacchi lì. Perché correre è un pochino più pratico che rimanere lì fermo. Non so cosa vuol dire la cosa che mi hai appena detto, te lo giuro. Non so cosa vuol dire. Mesmer, porco dio, animale maiale della puttana di Dio. Perché non vai a fare nulla con pochino della vita? Quello urla. Quello urla dall'altra parte. Che cazzo ti gridi? Appena a destra puoi evocare uno nel campo di battaglia. Ma entrato? Ma all'interno posso evocare uno? Ma come? Ma che cazzo è sta novità? Ma da quando c'è questa cosa qua, incredibile? Adesso ci proviamo. Dove cazzo sta? È una cosa nuova. Ah, vipo. Non è meno niente. Mesmer, dov'è? E io però non lo vedo. Mesmer aspetta, sto giacando. Ah, eccolo. Mesmer aspetta. Mesmer ragioniamoci sopra, aspetta. No. No, aspetta. Mesmer è grave. Ma per vocarlo devo diventare scemo però. Chi è? L'araldo del corpo. Bravo, in vengeance. Bravo, bravo. Vai, vai. Però fai qualcosa, araldo del cazzo, non del corpo. Perché Mesmer è anti-gravitazionale? Se posso chiedere che... Ma perché c'è lei con me? Che si sta amenando l'oro? Sì, è lui l'araldo del cazzo. Sì, vabbè, eh... Inizia la fase 2. Sì, è lui l'araldo del cazzo. Però, devo dire, interessante meccanica Quello di invocarlo nel campo di battaglia. Proprio è un'idea di merda. Ma che idea del cazzo è? Eh, ti ascolto, Amari, però faccio fatica Mentre c'è l'amico Sprint qua Che cerca di stuprarmi. Mesmer, Mesmer, calmati. Calmati, Mesmer. Mesmer, sei agitato, Mesmer. Mesmer, sei troppo agitato? No, è agitato, ragazzi. Datevi un malio. Iscriviti un malio. Nasa gli spagano a basta. Segnò è... Mi ricerano. Ti a chi? Mi ricerano? Mi ricerano? Nasa l'arriolo! Di via. Mi ricerano? Ragazzi, fa un casino quest'uomo inerrabile! Fa un casino inerrabile quest'uomo! Primo che non si prende anche il cazzo di tutto dentro! Il mio santissimo! Ma perché ce l'ha sempre con te? Qualcuno lo può pigliare, grazie! Io voglio andargli alle spalle! Porca troia, mi ha shottato quell'attacco! Puoi andare dove c'era l'NPC che hai dato l'oggetto del magazzino, piano terra, dovrebbe continuare la quest... Puoi andare dove era l'NPC che hai detto l'oggetto del magazzino, piano terra, dovrebbe continuare la quest... Eh, non c'è! Ci sono già stato! Ho provato anche a riavviare, Marino! Ci ho provato! O sono andato o sono uscito e rientrato o non c'era... Aspetta, Mesmer, rilasciati eh! Mesmer! Mesmer! Però, sì, eh, va bene, basta parlare! Più menare, basta parlare! Troppo parlare! Troppo menare! Più menare! Più menare! Di star calmo, Mestre, quando ci fa! ima una armatura! Primero! Diezcraft! Non c'erà Aia Il problema è che questo attacco qua ragazzi Mi ha levato tutta la vita Sì vabbè è satana È satana è finita È arrivato satana Ma perché io? Ma perché io? Perché te la prendi con me? Ma io ho una domanda Ma perché se la prendi con me Ma perché se la prendi con me Cioè la minare in quattro E continua a minare me Vabbè intanto cambiamo il balsamo portentoso Perché Allora Balsamo portentoso lo cambiamo Questo più che questo io metterei Questo che mi può salvare Ho già controllato Il marino non c'era Sono sicuro che non c'era Perché sono uscito e rientrato Allora Resistenza Vabbè Non c'è il dopo Non c'entriamo Sennò finiscono gli effetti Eh Aspetti eh Mesmer È una mira di merda però Si capisce un cazzo Guarda devi fare i tuoi attacchi Poi basta Perché se no ti mira Basta Quanti attacchi fai Cristo roghe Oh cazzo No è troppo agitato il ragazzo Non ci sarebbe del mario Ma ragazzi Devo capire anche la lore Perché sono troppo curioso Di saper la lore Di questo Pazzolido schizzato Mi pare strano Di mettere un boss Che non si ammazza Ma vieni come al solito Questo è l'unico attacco Che ho imparato Dica Mesmer Ti devi calmare Però sei troppo agitato Ti stanno menando gli altri Attacca gli altri Dio troia Non serve a niente Quell'ambuleto Non panic rollare E allora Non panic rollerei Se capissi Quello che sto facendo Questo uomo Non è che attacca Questo uomo Spara Robe Ovunque Ma non voglio Boccare altra gente Dai Mi scoccio Boccare altra gente Boccare altra gente N البja Sercadinse Ecco down Da Mi Mixer No Tu Mi Ho 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 Hoo Ho 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 a i a i 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 posso provare no perché la difesa è già buona non è un problema di difesa sto bagaglio è iperattivo ma tanto eh ma non è il problema non è il problema è che non riesco a capire gli attacchi ci vorrà una settimana per capire come è come per una legna all'inizio sembrava impossibile poi uno impara gli attacchi e li fa però non mi date il tempo mesmer deve essere il tempo mesmer non mi date il tempo non mi date il tempo vorrei sapere chi è il genio del crimine che ha deciso di mettere un segno di evocazione nel campo di battaglia ma voglio sapere quali danni cerebrali ha subito da bambino perché sua madre probabilmente era una futana si si ma radan però sei nel deserto dei gobia a combattere qua sei in un metro quadro dubito che sia figlio di riker no 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 non 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 Aspetta sto studiando delle foto che non capisco, ma ci ho provato mille volte e non mi cagherò No, 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 no Sto cazzo Stiamo a casa, non lo so, non lo so No, 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 no Ma è reitti sto po' L'ho attaccata che va alla fase di ruolo L'ho attaccata che va alla fase di ruolo Non l'avevo visto No, Radan era semplice perché mirava alla cazzo di cane Il coltello spruzza tanto, si Ha dei problemi per il coltello Dai, la mappa Ce l'ho va Ma che cazzo fa? Entro oggi, però, per evocarlo 6 arpa Oh, ma sveglia, ti dai Idiota, è lì Idiota Idiota Mentre, ragazzi L'NPC è il problema Il problema Di multipla D section Che! 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 Però questa cosa mi sta un po' su un porco di Dio cazzo, eh, cioè, lo attaccano tutti, lui mira a me. Andre, Marino, io che cazzo ti devo dire? Marino, eh, cioè, io se vuoi ci torno, ma non è perché, guarda. L'ammazzo? Cadevo va? E tiro un coppino? La prenda a pisalate nell'occhio? Vai sotto dal tipo, ma non c'è il tipo, Marino, non c'è. Allora, io se vuoi vado un attimo in magazzino, ma non c'è il tizio. Andiamo un attimo giù in magazzino a controllare. Il tizio però non c'è. Ci sono i segni. Eh, dove cazzo sta il magazzino? Non è possibile parlare prima con lei, poi col tizio, ma che significa? Cioè, il tizio è prima di lei, che vuol dire, scusami. Ho sbagliato anche posto. Non ha senso questa cosa. Non vuol dire niente sta cosa. Cioè, prima c'è il tizio, poi c'è lei. No, ma posso ridurgli un po' la vita, però... Cioè, posso farlo, però... Eh, però... Lei ti dà uno scudo? Eh, io non so che devo dirvi, ragazzi. Io non c'è... Aspetta, dove cazzo sta? Eh, che mi scoccio a saltare delle queste o a non prendere degli oggetti, però... Lui dove cazzo è che stava? Piano terra a sinistra, aspetta. E io a lui gli ho dato la pergabena. È sparito. Ho parlato con lei, ma ho detto, scusa, sono importanti... Scusa, sono ancora più. Ma ho detto, scusa, sto facendo cose importanti, scusami, cazzi e mazzi. Sto avendo un ictus. Non è sparito, è scomparso. Dov'è? Vaffanculo. Allora, dove cazzo è che stava? Cos'era qui giù, mi pare. Ma il cazzo è che stava? Non mi ricordo più. È che non c'è più il segno, quindi non so più dove merda stava. Ma era qua. Non c'è. Io non so più. Non c'è. Lui qua non c'è. Ma non c'è niente. Io non so cos'è che ho sbagliato. Non ho idea. Te l'ho detto che non c'è nessuno. Non ti sei fidato? Te l'ho detto. Ma non c'è letteralmente niente. Secondo me è mancato qualcosa. E che cazzo? Devi prima parlare con lei. Ma lo c'ha fatto? Ma non c'è nessuno.